Allora c'è un esercizio molto bello che si chiama shit list, la lista della merda, si chiama così, però shit list è più elegante, si chiama shit list e che si fa in due momenti della giornata, il primo momento in cui fare la shit list è proprio questo, la mattina, e poi c'è un altro momento in cui fare la shit list che è, scrivete esattamente come il resto della fisiologia, quando ti scappa, quando ti scappa, di cosa sto parlando? Sto parlando della capacità di ognuno di noi di dare forma ai propri pensieri, di buttarli fuori. L'esercizio che vi chiedo di fare è prendere un foglio bianco dal vostro quaderno, un foglio che sia staccabile, staccatolo perché non voglio che rimanga con voi. Voglio che questo foglio sia buttato dopo e che su questo foglio, magari se sei vicino a qualcuno che ti conosce, mettiti in modo tale che non ti possa vedere. Perché ci stai per scrivere tutto ciò che ti dà pesantezza, ci stai per scrivere tutto ciò che ti dà fastidio, ci stai per scrivere tutto ciò che ti pesa, ci stai per scrivere tutto ciò che non ti fa viaggiare a sei cilindri, che non ti fa andare bene, tutto ciò che ti trattiene. Allora, su quel foglio, per favore, mettici nomi, fatti, situazioni, tutto ciò che non è risolto nella tua vita, che siano nomi di persone, che siano contenziosi in atto, che sia una roba che ti girano nel cervello. Provate a pensarci, ancora non iniziamo, vi guido, poi lo facciamo insieme. Provate a pensare, anche il nostro computer ce lo insegna. Quando è troppo pieno, che cosa succede? Rallenta. Con il telefonino oggi, provate a pensarci, quando a un certo punto, ed è incredibile, avete visto che ogni due anni raddoppiano le capacità dei telefonini, ma sono sempre pieni? Ma quando inizia ad essere pieno, cosa fa questo telefonino? Rallenta, non ti salva più le cose, non funziona più. Noi esseri umani siamo fatti uguali, scrivete, quando siamo pieni di merda, non funzioniamo più. E lascia stare che a un certo punto hai imparato a conviverci. È vero, a un certo punto non senti più neanche l'odore. Questo non significa che non si possano pulire, non si possa buttare nel cestino qualcosa. Che il telefono non possa tornare a andare meglio, a riappropriarsi delle sue potenzialità. Noi. E vi devo dire che in questo momento storico io vedo che tutto quello che è caduto ci ha riempito di più. Perché siamo pieni di preoccupazioni, di frustrazioni, siamo pieni di rimorsi, di ramarchi, per non aver capito prima, meglio. E non ci rendiamo conto che invece oggi possiamo incidere. Allora c'è una cosa che dobbiamo imparare a fare. Far pace con noi, buttare fuori. In modo tale che mettendo su quel foglio tutto ciò che ti pesa, innanzitutto lo vedi. In secondo luogo lo vedi fuori da te. In terzo luogo utilizzeremo questa lista in modo tale che la buttiamo via. La strapperemo, gli daremo fuoco. È solamente un gesto. Anche in antiche culture, veniva fatto così, si bruciavano le cose che facevano parte del passato. Ora adesso non daremo fuoco a tutti, se no qui partono. Ma è già successo due volte che sono partiti gli antincendio. No. Però strappiamo, buttiamo fuori. In questi tre giorni noi vogliamo costruire delle scelte future. Andare incontro a questo periodo che ci aspetta col cuore leggero, con la testa vuota, da riempire con nuove cose. Dobbiamo fare spazio. Cinque minuti su quel foglio scrivete situazioni, contenziosi, persone, tutto ciò che vi pesa. E vi prego, magari non vi viene facile, però rimanete qua, non scappate, perché è normale, è tutto normale. Dopo un po' certe cose non le guardi neanche più. Però che cos'è che ti dà fastidio, cos'è che vuoi risolvere? Magari ti dà fastidio, mettiamo un po' di musica e iniziamo. Magari ti dà fastidio che l'albergo non è quello che pensavi. Magari ti dà fastidio il tuo vicino. Magari ti dà fastidio che a casa non sono contenti che sei venuto qui o non accettano alcune tue scelte. Magari hai tutta una serie di cose da mettere a posto. Iniziamo a scrivere, vai. Ok, chi ha fatto? Io. Allora, le sensazioni potrebbero essere state due, in base a quanto hai voglia di metterci le mani in questa situazione. Ed è chiaro che se siamo qua per migliorare, è evidente che anche se ti dà un po' fastidio, un passettino bisogna che lo facciamo. Chi di voi ha fatto fatica a scrivere sul quaderno quello che vi dà fastidio? Chi ha fatto fatica? Sinceramente, può succedere, anzi di solito succede, state la mano, state la mano, state la mano. Ok, un 70-80. È normale, è esattamente come se è tanto che non vai in bagno e fai fatica. Fai fatica. Fai fatica perché non è normale, fai fatica perché hai fatto ormai resistenza a questo, l'hai fatta diventare quasi la normalità. Chi invece scrivendo, mano a mano che scriveva, ha trovato anche un po' di beneficio, un po' di sollievo mentre lo facevate. Bella, interessante sta cosa, perché che cosa accade? Che ti svuoti, che ti liberi. Oppure, facendo una metafora con quello che può accadere nel nostro corpo, queste sono tutte situazioni che possono essere equivalenti emotivamente a ciò che può accadere muscolarmente. Quando c'è qualcosa che non va nei tuoi muscoli, magari hai una contrattura, uno stiramento, se ci lavori sopra, che vai a scioglielo, vai dal massaggiatore, magari ti fa un po' dolore, ma poi ti trovi meglio, stai meglio. Ed è esattamente la stessa cosa, avere la capacità di lavorarci sopra, di scrivere. Ecco, questo concetto dello scrivere ci accompagnerà un sacco, perché finché le cose rimangono qua, volano, viaggiano. Quando noi iniziamo a mettere su carte, invece gli diamo forma. Ovviamente noi vogliamo dar forma a questo, ma vogliamo anche liberarcene. L'esercizio non si conclude semplicemente scrivendo. Adesso dobbiamo strappare, insieme, aspettate. Vi dico quello che facciamo adesso. Strappiamo insieme. Dopo che abbiamo strappato, siccome io non voglio che, va bene che l'hai sminuzzata, ma non voglio il sacchettino di qui, la prendiamo e la buttiamo fuori. Usciamo tutti insieme, la buttiamo fuori, proprio fuori dall'albergo. Se potete, anzi, fuori da San Marino. Prendete, no, sto scherzando. Fuori dalla sala, fuori dall'albergo, torniamo in sala. E senza quel peso lì, quando rientriamo da là, rientriamo avendo lasciato il nostro sacchettino di cose fuori. Tanto, lo sapete benissimo, che quando poi tornate a casa, se volete, ve le riprendete tutte. Non ve le ruba nessuno. Ma veniamo qua leggeri, torniamo qua liberi, con la voglia di far sì che in questi tre giorni possiamo aver fatto spazio. Perché, scrivetelo per favore questa cosa. Se vuoi mettere qualcosa di nuovo dentro, devi liberare spazio. Se no, non ci sta più niente. Allora, con questa voglia, con questo desiderio, torniamo in sala. Quello di chi ha fatto spazio e ha voglia di metterci del buono, del bello, di qualcosa che ci può essere d'aiuto. Al mio tre strappiamo insieme, eh? Potete strappare anche con un po' di... Cioè, come dico, vaffanculo, cioè... Perché io non sono sta roba qua. Cioè, avete presente quando la guardi, dici, cazzo? Ecco, uguale, così. Bravissimi. Al mio tre strappate. Un, due, tre. Ancora. 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 Dai, adesso datelo al vicino. No, scherzo, scherzo. Adesso uscite. Leggeri. Buttate fuori caffè. E ci vediamo fra venti minuti. Vai!